Perché passare a Lombardia? Perché la Lombardia ci lega degli interessi economici, perché noi guardiamo soprattutto verso il Melanese e il Varesotto, perché abbiamo interessi anche sociali, i nostri pazienti purtroppo, chi ha bisogno, si rivolge spesso e volentieri alla regione Lombardia, agli ospedali della Lombardia per farsi curare. A Torino dicono che è un salto nel buio. Ma un salto nel buio o meno, questo è da vedere. Certo che Torino non ha fatto nulla per tenere a sé questo lembo di territorio che è marginale e montano, basta vedere la legge che ha fatto sulle province montane, a differenza di quello che ha fatto la regione Lombardia e la regione Veneto. E' giusto passare alla Lombardia o no? Non capisco perché. Periferia siamo e periferia saremo. Quindi i benefici che tanto decantano sono un'illusione e poi credo che sia controproducente. La vedo solo in funzione elettorale per qualcuno, per una campagna elettorale, ma non ha assolutamente senso. E' un po' come la storia dell'autonomia, tutte le vecchie storie che hanno contraddistinto questo territorio. Ogni tanto ne inventiamo qualcuna. Il problema credo che alla fine siamo noi ossolani, che dobbiamo essere più propositivi, farci ascoltare perché abbiamo degli argomenti interessanti, utili e delle proposte. Io nella mia esperienza sindacale mi ricordo sempre un aspetto, che quando eravamo all'esterno non comprendevano le questioni degli ossolani, perché non eravamo in grado di farci ascoltare. Credo che sia essenzialmente questo il problema.